C'era riunita una piccola formula, era venuto pure il cavaliere e lo sposo, come se tutti avessero l'urgenza di dimostrarvi la loro amicizia. Benissimo, all'inizio ho deciso di farlo io, tipo sì sì lo facciamo dai tranquillo con Cettina, poi ho fatto venire Laura Giacobbe che era prima il mio aiuto regista ma è un'autrice, un'ottima regista teatrale e alla terza parola che mi ha detto ho detto ok fai tu la regia perché non la posso fare dall'interno, è impossibile. E' sciocco anche perché incorri non tanto nella problematica del giudicarti da solo ma soprattutto nel fatto che alcune cose non le vedi perché le cose che si vedono dall'esterno notoriamente sono diverse da quelle che si vedono dall'interno.